Con un gol per tempo il Milena torna alla vittoria e a farne le spese la città di Agrigento che adesso scivola pericolosamente nelle zone calde della classifica di prima categoria. Inizia il Milena con questo tiro dalla distanza che termina fuori e con questo calcio di punizione che la difesa agrigentina mette in angolo. Al terzo tentativo il Milena passa in vantaggio con questo tiro dalla destra di Badagliacca che sorprende il portiere ospite. Ci provano gli agrigentini su calcio d'angolo ma la difesa del Milena libera e soprattutto con questo tiro dalla distanza di Agozzino che trova pronto Pellitteri alla parata. Il Milena cerca il raddoppio con questo tiro di punizione di Ogeda per la testa di Majorana che termina al lato di un soffio. Per gli ospiti agrigentini ci prova Doca con questo giro che termina tra le braccia di Pellitteri. Spreca il raddoppio il Milena con questo pallonetto di Badagliacca che termina incredibilmente alto dalla porta agrigentina. Si affida ai calci piazzati il Milena, questo di Rapisarda trova la risposta di Fundarò mentre quest'altra di Ogeda termina di poco alto. La ripresa vede il Milena iniziare con il piglio di chi vuol chiudere la contesa con la difesa ospite che comincia a faticare a contenere gli attacchi dei nisseni. Il città di Agrigento ci prova con questo calcio di punizione di Bellavia che viene respinto da Pellitteri. Dopo l'infortunio di Cacioppo il Milena raddoppia. Calcio di punizione di Piero Vitellario in mezzo per il preciso colpo di testa di Ogeda che sigla il 2-0. Da qui in poi i tentativi delle due squadre si infrangono nelle rispettive difese e soprattutto nelle mani dei portieri per una vittoria meritata del Milena mentre la città di Agrigento deve cominciare a guardarsi alle spalle.